Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Il mondo del cinema italiano è stato avvolto da un'atmosfera di tristezza e mistero con la recente scomparsa di un'attrice leggendaria. Celebre per la sua interpretazione di Rosa delle Rose, figlia della sarta Anna Magnani nel film La Rosa tatuata del 1955, questa talentuosa artista ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli amanti del cinema. La notizia della sua morte, avvenuta pacificamente nel sonno nella sua casa di Gassin, in Francia, vicino a Saint-Tropez, è stata divulgata dalla sua pagina Facebook ufficiale. Nonostante non abbia mai vinto un Oscar, questa attrice ha avuto l'onore di salire sul palco più prestigioso del cinema mondiale per ritirare la statuetta al posto di Anna Magnani, che aveva scelto di rimanere a Roma per scaramanzia. In quell'occasione, Magnani vinse il premio come migliore attrice per La Rosa tatuata, un film che ottenne otto nomination agli Oscar e ne vinse tre. La scomparsa di questa stella, Marisa Pavan, lascia un vuoto nell'industria cinematografica e un ricordo eterno della sua straordinaria abilità artistica e della sua presenza carismatica sul grande schermo. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.